Buongiorno e buon pomeriggio a tutte le persone che si occupano del sociale. Io sto facendo questo video indirizzato agli assistenti sociali, però in realtà anche ai tribunali, per minori o ad ogni modo a tutte quelle persone che si occupano di minori. Quindi io sinceramente non ho contatti nel caso girate voi alle persone che si dovrebbero occupare di queste situazioni. Se ritenete che è un messaggio che bisognerebbe divulgare, siccome io su queste cose sono abbastanza inesperta. Volevo riportarvi la mia esperienza di quello che è successo quando ero piccola, che a mio parere è abbastanza grave come situazione. Ripeto, io non so se negli anni le cose sono migliorate, ci sono stati dei cambiamenti, probabilmente sì, io comunque sto parlando, metto le mani avanti, del sistema comunale, perché io ero seguita da assistenti sociali comunali. Vi racconto molto brevemente. Ovviamente se avrete delle domande sarà mio piacere parlare con voi e spiegarvi nel dettaglio meglio la mia esperienza, se nascerà questa curiosità. Per farvela molto breve, io sono stata presa in affidamento a tre anni e in pratica da quello che ho capito non potevo essere presa in adozione perché avevo dei genitori che erano vivi e quindi non si poteva passare all'adozione. Quindi per questo motivo i miei genitori dovevano andare una volta ogni due anni a rinnovare l'affido in un tribunale a Torino. È successo poi ad un certo punto che io ho iniziato a sviluppare un carattere un po' ribelle senza comunque fare chissà quali cose complicate. Infatti sono scappata, verso i 16 anni sono scappata e questa cosa ha traumatizzato i miei genitori perché per come potete sapere anche voi i bambini che sono sotto affido i genitori hanno una responsabilità molto forte nei loro confronti per qualsiasi cosa comunque vanno di mezzo. Quindi praticamente loro hanno dovuto per prassi per non avere problematiche di tribunale e comunque per dare una giustificazione a questo comportamento hanno comunque dovuto dirlo agli assistenti sociali che non ero tornata più a casa che comunque non mi trovavano più. E poi è successo che in pratica questi assistenti sociali mi hanno messo in una comunità per due anni a 18 anni io sono tornata a casa con i miei genitori affidatari. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a questo. Io in questi due anni purtroppo si è verificata una cosa che mi ha traumatizzato la vita praticamente fino ad oggi. Considerate che io ho 39 anni o in qualche modo comunque io sono una persona molto forte e se voglio bene alle persone comunque cerco di passarci sopra e ho sofferto tantissimo per questa scelta dei miei genitori che pensavo fossero dei miei genitori che invece erano stati gli assistenti sociali comunque a creare questa cosa, questa situazione per prassi burocratica. E comunque io il fatto che mi abbiano messo in una comunità senza dirmi niente perché effettivamente questo è il motivo per cui sto facendo questo video mi ha traumatizzato perché poi sono stata rimessa nella mia famiglia affidataria anche lì senza dirmi niente quindi come per farmi accettare una realtà che mi ha traumatizzato senza spiegazioni e senza darmi spiegazioni come se dovesse accettarlo e basta senza essersi messi a tavolino a cercare di capire le problematiche quindi io faccio questo video perché ho capito che per prassi magari un bambino debba andare in comunità ad ogni modo però innanzitutto anche questo secondo me è stato molto grave perché il fatto di mettermi in comunità solo per il fatto che sono scappata un giorno con una mia amichetta quindi ho fatto proprio la classica marachella è stato molto grave questo gesto perché è una cosa che mi ha traumatizzato quello era un gesto in realtà che io avevo fatto per essere più voluta bene dai miei genitori affidatari o per attirare comunque la loro attenzione e questo è stato il risultato il risultato è stato che mi hanno messo in comunità senza darmi spiegazioni perché lo avessero fatto e sicuramente non era il risultato che volevo ottenere e ad ogni modo io sfido chiunque a mettere in comunità un bambino solo perché è scappato una notte con gli amici anche in modo divertente per fargliela pagare mi sembra un tantino esagerato come gesto cosa ne pensate adesso io non so se è una prassi che fanno tutti o è una cosa che facevano solo anni fa io queste cose non le so ad ogni modo giro questo video per incitare innanzitutto le metodiche cioè cambiate un attimino le metodiche perché questi bambini rimangono traumatizzati da queste scelte esagerate è come se entra un ladro è come se entra una persona vestita di nera a casa vostra è vostro marito voi però lo uccidete perché pensate che è un ladro solo perché era vestito di nero cioè rivedete un attimo mettete un attimo sulla bilancia insomma queste cose anche perché in realtà io sono stata messa in comunità due anni è un po' tanto cioè capisco se viene se secondo voi è importante allontanare il bambino dalla famiglia affidataria per un tot di tempo posso benissimo capire io non metto in dubbio il vostro operato però non due anni ragazzi non due anni io direi tre mesi tre mesi basta e avanza e soprattutto voglio fare voglio incitarvi anche a fare un'altra modifica appunto cosa molto importante anche questa che mi ha traumatizzato perché la comunicazione è essenziale nella vita perché rischia di spezzare le persone e creare una rabbia interna repressa che comunque rovina la vita delle persone quindi soprattutto oltre a quei tre mesi al massimo in cui un bambino potrebbe stare in queste comunità a mio avviso per queste cose perlomeno poi ovvio se vanno in giro ad uccidere le persone capisco che devono essere allontanati per più tempo però io ero solo scappata quindi insomma valutate un attimino e oltre a questo anche comunicazione quindi organizzare anche degli incontri tra i genitori affidatari e il bambino per cercare di capire con una psicologa che fa da intermediario per cercare di comprendere qual è la problematica di quel momento che cosa è successo o fare anche dei colloqui con i genitori o dei colloqui con il bambino in modo separato anche perché questo non è stato fatto non mi è stato spiegato niente non mi è stato parlato non mi è stato spiegato del motivo perché nessuno mi ha chiesto come mai sei scappata mi hanno messo semplicemente in questa comunità dall'oggi al domani senza darmi e fornirmi alcuna informazione senza dirmi assolutamente niente la stessa cosa hanno fatto con i miei genitori non sono stati fatti dei colloqui anche loro confrontandomi anche loro non hanno avuto dell'assistenza o una cosa continuativa da quello che ho capito anche loro sono stati lasciati allo sparando non mi sembra una cosa tanto non mi sembra una cosa che vada tanto bene a mio parere è una cosa che va cambiata assolutamente buona giornata a tutti grazie a tutti